Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale, live reaction, e ci siamo, e ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, Inter Milan, è tornato il derby di Milano, che ormai non sembra più il derby di Torino, fatemi mettere corna, fatemi toccare, però, cioè, veramente, per la legge dei grandi numeri, oggi questi qua, oh, magari se lo portano a casa, però, però... Vabbè, comunque, scherzi a parte ragazzuoli, è sempre il derby, e quindi l'ansia è sempre a mille, appunto, noi veniamo dall'ultimo derby, che vabbè, dall'ultimo derby, 22 aprile 2024, non ci sarà mai rivincita, scudetto in faccia, non ve lo dimenticherete mai, quella è storia, rimarrà nella storia, però questa è un'altra stagione, questa è un'altra derby, questa è un'altra partita, si riparte da 0-0, e quindi, testa sulle spalle, concentrazione, perché va portata a casa, va portata a casa perché il derby è sempre derby, c'è sempre una città in palio, no, c'è il dominio della città in palio, anche se ormai, cioè, non è che, cioè, se doveste vincere questo derby cambierebbe qualcosa, cioè, umiliati, siete stati umiliati, tornerete fuori dalle fogne oggi, giusto per mettere la testa fuori, e poi la ributterete nelle fogne, come giusto che sia, detto ciò, cappellino in testa, vi piace, l'ho preso della curva, vi piace, fatemi sapere se vi piace, si va, e si va ragazzuoli, si va, si va perché oggi è importante, oggi è importantissimo, anche perché ieri la Juve ha pareggiato ancora, ha fatto schifo ancora, quindi, regà, derby è derby, derby è derby, andiamo allo stadio, sempre Forza Inter, mi raccomando, like, iscrizione al canale, forza! I campioni dell'Italia si avvaluò! I campioni dell'Italia si avvaluò! I campioni dell'Italia si avvaluò! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti 10 minuti non siamo stessi in campo Non siamo stessi in campo Proprio 0-0 Raga è un derby Non siamo stessi in campo Il marco 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 E' lui, dai! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, Sommel, cosa ha preso Sommel! Mamma cosa ha preso Sommel! Mamma mia, ragazzi! Non mi ricordavo come si soffriva in un derby! Non ho mai sofferto così negli ultimi derby! È bruttissima, è stata bruttissima! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Oh! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, veramente stasera ci state facendo soffrire come non fa stasera! Mamma mia! Che merda ci stiamo facendo stasera! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Figurè. Mamma mia, ragazzi! una parola, una parola una parola, una parola una parola, una parola, una parola guarda, guarda, guarda guarda, sembra che ha vinto la Champions League sembra, guarda, sembra che ha vinto la Champions League sembra, mamma mia, quanto stavate soffrendo sembra che avete vinto porca diaz la coppa di non so cosa guarda, 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 guarda